24 giugno 1985 si vota in italia per la presidenza della repubblica francesco cossiga viene eletto al primo scrutinio con lo straordinario risultato di 752 voti su 977 successore di sandro pertini è l'ottavo presidente della repubblica lo stile di cossiga al quirinale muta drasticamente negli ultimi due anni di mandato finita la stagione della guerra fredda e cambiato il ruolo dei due principali partiti dc e pc cossiga è convinto che la vecchia politica vada trasformata aiutato da una fortissima esposizione mediatica entra in polemica con toni spesso volutamente eccessivi e provocatori con i partiti allo scopo di scuotere dare come lui stesso ammette delle picconate al sistema cossiga si guadagna così l'appellativo di grande picconatore il suo mandato dura fino al 1992 quando decide di dimettersi a due mesi dalla scadenza naturale del mandato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti